Simona mi aiuti per favore? Certo, dimmi pure. Devo scrivere una lettera, so che tu sei brava. Beh, proviamo, a chi deve scrivere? Al mio metabolismo. Devo dirgli che la stagione del raccolto dei grassi è finita. Cosa? Sì, è che deve iniziare la stagione del bruciagrassi. Ciao amici, come anticipato in questo video, oggi cerchiamo di fare chiarezza sul concetto di bruciagrassi. Cos'è? Cosa vuol dire? Come funziona? Se ne dicono di tutti i colori. E allora sfatiamo insieme un po' di falsi miti. Cosa ne dite? L'aggettivo bruciagrassi oggi è usatissimo dappertutto come slogan per vendere prodotti o pubblicità, come segreto per dimagrire. Però? C'è un però. Quando poi tocca a noi bruciare i grassi, le cose non funzionano esattamente come ci hanno detto. Vi è mai capitato? Ma è proprio quello che mi capita continuamente. Lo so, sono qui per questo. Sfatiamo subito un falso mito. Non esistono prodotti bruciagrassi. Non ci sono cibi o integratori con il potere di bruciare grassi. Non è che noi mangiamo un cibo e questo si mangia i nostri grassi. L'unico che può bruciare i grassi è il nostro corpo. Veramente il mio corpo è quello che accumula i grassi. Sì, è vero, può fare tutte e due le cose, ma sarete d'accordo con me? Il grasso non può sparire così nel nulla, bruciato dai cibi bruciagrassi. Deve essere il corpo a spostarlo da dove è accumulato e consumarlo, ovvero bruciarlo. Mi stai dicendo che la mia tisana bruciagrassi è inutile? No, sto dicendo che per dimagrire in cima ai nostri pensieri ci deve essere una cosa, un pensiero. Come riattivare il metabolismo dei grassi? Forse volevi dire come risuscitare. Aiuto! Parlo di un meccanismo fisiologico che abbiamo tutti. Se i grassi si accumulano come riserva di energia per il corpo, deve esistere anche il processo inverso che a un certo punto li utilizza come energia. Allora digiuno finché non dimagrisco. Purtroppo non funziona così. Spesso, per motivi anche diversi da persona a persona, il meccanismo consuma grassi o brucia grassi naturale del corpo viene disturbato e quindi succede questo. Si mangia pochissimo ma si ingrassa lo stesso. Si mangia pochissimo ma comunque non si dimagrisce. Si eliminano i grassi dalla dieta ma non dal corpo. E quattro, nessun tipo di dieta funziona. Evidentemente nessun cibo cosiddetto brucia grassi può fare niente. Qui serve un programma di riabilitazione. E che dobbiamo andare dal fisioterapista adesso? Ancora da lui? Ma no, bisogna riabilitare, cioè rendere di nuovo abile, attivo il metabolismo. Per cui il modo corretto di esprimersi dovrebbe essere un altro. Così. buona la mia tisana risveglia metabolismo. Brava. Con il metabolismo bisogna essere dolci. Lui ama la gradualità e la costanza. Allora si risveglia e riparte nel modo giusto. Ci sono alimenti, bevande, rimedi naturali, esercizi fisici, buone abitudini nello stile di vita che possono davvero aiutare il metabolismo a girare nel verso giusto. Ma bisogna essere molto precisi perché la sua chimica è complessa e non scherza mica. E per sfatare il secondo falso mito sui brucia grassi voglio dirvi questo. Per bruciare i grassi non sono i grassi che dobbiamo eliminare dalla dieta. Sapete cosa dobbiamo ridurre drasticamente? Gli zuccheri tanto buoni quanto cattivi. Sono gli zuccheri che in eccesso e non dosati impediscono al metabolismo di attivare le sue funzioni brucia grassi. Gli zuccheri stimolano la produzione di insulina che impedisce al corpo di consumare i grassi per avere energia. E lo porta invece ad accumulare i grassi per avere delle scorte. E dove mette queste scorte? Simpaticamente nei rotolini della pancia, fianchi, cosce e glutei. Lo so benissimo, non ricordarmelo, grazie. Il metabolismo invece ha bisogno dei grassi per funzionare. Sto parlando dei grassi buoni, ovviamente. Ed ecco il terzo falso mito di oggi. I prodotti light non aiutano a bruciare i grassi. Anzi non avete idea di quanti danni abbiano fatto alla salute i prodotti light dosati male o in eccesso. Ve lo posso dire con la mia esperienza di naturopata. E poi qualcuno è mai dimagrito con il burro light, la mozzarella light, il mascarpone light. Io pensavo che fosse leggera e ne stavo mangiando giusto un paio per fare uno spuntino. Se impostiamo la nostra giornata nel modo giusto e scegliamo un'alimentazione con la giusta logica e i giusti tempi durante la giornata e capiamo come funziona il metabolismo, allora sì possiamo definire alcuni alimenti brucia grassi. Ed è proprio di questo che vi parlerò nel mio prossimo video. Beh almeno adesso ho capito. Grazie. Bruciare i grassi è anche una questione di testa. Bisogna ragionare nel modo giusto senza farsi illudere da pubblicità interessata solo a vendere. Se siete d'accordo mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Condividete con gli amici e le amiche alle prese con il dimagrimento e iscrivetevi al canale per vedere tutti i miei video. È facile, basta un clic così e attivate la campanella delle notifiche. E noi ci vediamo al prossimo video sempre qui sul canale naturalmente. Ciao! A beh!